Attività, coinvolgimento, recupero dell'area e iniziative per riportare i Piacentini sulle rive del Po. Ma anche tanta burocrazia che si mette in mezzo tra le idee e la loro fattibilità. Sono le iniziative della MAP, illustrate nella sede della Ninobixio. Quest'anno abbiamo cercato di fare vivere un po' ai cittadini piacentini le sponde del lungo Po. Abbiamo fatto degli intrattenimenti e quant'altro, distribuzioni di bevande ed alimenti, e quindi la gente è fluita in buon numero, siamo contenti di quello che c'è. Vorremmo provare a dotare l'area, se possibile, per fare sì che i cittadini ci vengano con tanta tranquillità a dotarla di servizi. Ma non è facile avere dei servizi in quest'area qui. Ci sono delle cose, insomma, già le autorizzazioni che bisogna chiedere, speriamo di poterle ottenere. La necessità di una maggior coesione tra la città e il Grande Fiume è sottolineata anche da Gian Pietro Comolli, che ha realizzato il progetto Un Po' per Expo in occasione della Fiera Internazionale di Milano nel 2015. Ho notato che ci sono delle città piccole e grandi che hanno investito sul fiume, meno addirittura collegate che Piacenza alla città, a parte Torino e Cremona, le altre sono tutte distante, però hanno investito. Secondo me è arrivato il momento che Piacenza deve effettivamente scegliere questo. Il Po, unico grande bacino fluviale italiano, non è riconosciuto a livello europeo, dove invece altri nove grandi fiumi percepiscono finanziamenti europei. È arrivato il momento oggi di capire se questo territorio deve essere abbandonato con quattro panchine abbandonate e una dimenticanza totale di quello che può essere anche un uso fluviale da diporto, non da navigazione, non sicuramente da commercio e non da turismo, ma fra privati e fra servizi utili per la cittadinanza legata al fiume Po' oppure bisogna lasciare le cose come stanno. Chiusa una stagione, la MAP pensa già a quella del prossimo anno. In cantiere ci sono diverse novità, vogliamo fare una cosa che sia di lungo respiro sotto questo aspetto, anche sul lungo Po' una progettazione dall'anino fino giù, trovare di sistemare l'aria, non lasciarla in mano a tutte delle persone che purtroppo, senza oltre all'estero comunitario, prendono le panchine del comune e le spostano giù, bisogna rincorrerle, cerchiamo di tenere pulita l'aria da tutto quello che può essere, tutti dei rifiuti che lasciano come succede generalmente un po' dappertutto. Speriamo di metterci un freno.